Bigger Love, un nuovo album di inediti musicali per John Legend, che domenica vi ricordo sarà ospite dal buon Fabio Passio. Uscirà il giorno 19 giugno 2020 il nuovo album della Star Americana, che prende il nome dall'omonimo singolo che attualmente si trova in radio, Bigger Love, di cui è stato già recentemente pubblicato il video diretto da Mishka Kornay. Pianista, cantante e star americana John Legend torna con un nuovo album di inediti Bigger Love, uscirà il 19 giugno, ripeto, domenica 17, invece sarà ospite di Fabio Passio, a Che Tempo Che Fa, il programma che va in onda in serata su Raiwe. L'album è un album tutto da vivere, tutto da riscoprire, tutto da godere, dove sicuramente si hanno a che fare con straordinari entusiasmanti virtuosismi di tipo musicale. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, mi raccomando, commentate. Un cordiale salutone a voi, dal vostro Leandro Arias, il narratore italiano di YouTube Italia. Un saluto e complimenti alla Star Americana per i celebre.